ciao a tutti benvenuti in un nuovo gameplay dell'angolo del gaming oggi siamo nella versione di prova di riders republic titolo che ubisoft ha permette di provare fino al 28 agosto come dice qui è una versione preliminare a contenuti limitati ancora in fase di sviluppo non rappresenta un prodotto finito invitiamo a condividere con noi commenti impressione segnale qualsiasi cosa nel forum la versione preliminare significa che alcune parti del gioco incluse le funzioni specifiche della piattaforma cominciate molti giocatore potrebbero non funzionare come previsto o per niente il gioco potrebbe anche bloccarsi si tratta di una versione preliminare pertanto l'assistenza completa clienti non è garantita potrebbe essere sospeso in questo momento crossplay al momento puoi giocare con giocatori di altre reti puoi giocare solo con gli utenti della tua rete disattiva questa funzione nelle impostazioni dei gioco allora faccio un giro nelle impostazioni ci rivediamo fra qualche attimo allora vi dico subito che ho messo le impostazioni ultra spero che possa andare tutto per il meglio il processore è un 4820k per ora perché mi è appena arrivato il curiere mi ha appena consegnato un processore di undicesima generazione della intel i nove 11 900 f due banchi di memoria ram da 3 ghz e 2 32 giga l'uno quindi farò un dual chen però mi mancano ancora la scheda madre e il nuovo case di installare il tutto ti diamo il benvenuto nella beta allenati subito si iniziamo con il tutorial la beta è stata prolungata fino al 29 agosto allena ti preparati alle altre sorprese competitive vabbè qui cosa sta succedendo si va bene ma il forum in questo momento non mi interessa cosa significa tutto questo cosa significa tutto questo ok cosa dovrei fare qui se solo riesco a capire cosa devo fare se solo riesco a capire cosa devo fare la modalità squadra va bene mi danno queste monete iniziali e di qui stato server online ah nuova partita ok ci siamo io cercare non riuscivo a capire neve l'altra ok continua da gara si va bene allora a y non so cosa significhi spin x b a boh finalizza la configurazione del primo avvio tutti i parametri possono essere modificati non so cosa che non so cosa abbia fatto quindi non so cosa abbia fatto quindi non so che vediamo con il bambino della pelle cosa è poi ah ma c'è 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 oh non riesco a capire vabbè viso proviamo con questo occhi capelli no eccoli colore capelli circa così lo danno ok così titolo sfidante della gravità secondo me non so cosa servono tieni premuto per saluto ecco ok ah devo tenere premuto x ok anche ok google ha detto idem per me non sapevo cosa serviva quello che stavo facendo vabbè work in progress bella la grafica qui c'è la neve sotto non sembrava che ci fosse neve però engage oh questo è una piscina hanno letto diversi titoli ubisoft recenti ops ahi ahi che dolore che dolore adesso c'è la neve poi con la bicicletta benvenuti su ridge tv canale che porta nelle vostre case le emozioni più intense che la riders republic ad offrire scopriamo subito cosa ci riserva al giornato ma riders republic sarà un'espressione unica perché hanno messo lo spazio nei sottotitoli e segui i checkpoint ok sì ok posso ripartire è che non so stavo non stavo usando il joystick giusto scusa non c'è una frenata cioè vedo ah sì si può frenare ok arriverò ultimo naturalmente non avendo ok mi fai ripartire sì eh si può no non io non volevo riavvolgere sto cercando di capire i tasti per cambiare ah ecco oh non ho potuto attivare le HDR perché la tv che uso non supporta ah ecco i ciclisti ipotizzo che si possano fare anche della clobazia ma prima devo riuscire a prendere a prendere mano sul manubrio e piede sul pedale cioè devo capire come funziona certo è diverso rispetto a pedalare sui miei vegal eh tutti questi che mi hanno raggiunto eh che succede non ho eh non ho capito sequoia the ridge tv io mi aspettavo qualcosa di più realistico ma non so quanto sia realistico questa cosa passa dai checkpoint ma non vorrei troppo vicino al sole non ti preoccupare qual è il tasto per cambiare videocamera eh certo non riesco non so aiutare non so non so ok avevo scelto francese come voci perché mi parli in inglese non dovevi tornare indietro dovevi sbagliato devo capire ancora questi tasti ma esiste davvero uno sport del genere o perché è stato inserito in molti videogiochi è stato inserito anche qui work in progress ok Zion, Bryce Canyon The Ridge TV adesso si va a sciare segui il pendio da sci ok oh ho capito come si fa così si flippa ah ok scusa è finita The Ridge TV ok 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 si può parlare si può parlare si può parlare no no che fai di bello ok 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 si può arrampicare forse forse sto sbagliando il titolo con cui si arrampica forse un altro come si risale qua forse da questa parte c'è c'è compenetrato ma e di qua cosa c'è ah fire for all transit point vediamo transit point mi sto allontanando perchè sto cercando di capire che posti sono questi ok anche a piedi non si può sconfinare ma io voglio solo sapere dove sto andando cioè cosa c'è qui attorno finish exit ok ok quanta gente c'è qui trick button non entrare ok ha detto dietro gli schermi ma io non ho capito dove sono questi schermi eh no no di qua ok ah e questa è la bicicletta la tua prima bicicletta l'attrezzatura in radio sarà repubblica la statistica è che influiscono sulle prestazioni sulle serie di gioco man mano che fai progressi nel gioco otterrai attrezzatura migliore e più specializzata meno male ohia mi sa che non è una bella bicicletta aiaiaiaiaiaiai volevo provare un po' di cosa oh oh eh scusa la bicicletta che fino ha fatto eh scusa la bicicletta che fino ha fatto dove è finita la bicicletta che avevo poco fa ah eccola eh volevo capire cioè curvare non è facile ok salta filmato ecco bando alle ciance il tipo di cui ti dicevo è una vera legge lui ha ispirato tutti i rider più gansi a venire qui va beh leggetevo non erano parli Vabbè, parla tu. Parla sempre tu. Vabbè qui. Vabbè, parla tu. Vabbè, parla tu. C'è un po' di freddo. C'è un po' di freddo. Il va bene. C'è un po' di freddo. Non c'è bisogno di mettere una billabond. C'è già. C'è un po' di freddo. C'è un po' di freddo. Il potrebbe essere il prossimo protégé per il Riders Ridge Invitational. Protégé, eh? C'è un po' di freddo. C'è un po' di freddo. Ok, Sparky. Suki's usually not wrong about these things. And I can see in your lunettes that you're bursting with some of that special... Te lo leggo negli occhi. Tu lo leggi nei miei. Transformative. Trust me. I know. I was there, ten years ago. Suki! Suki! So, before I decide to even consider taking this lasting journey with you... Let me break it down for ya. There are six disciplines to master. each consists of famed competitions and an illustrious final mega event to overcome. The Riders Ridge Invitational. Yeah, baby. Now, if you can get your smarticles around that... Then... Then, yeah, okay. I'm willing to give you a shot. Yes! Finally! Dude, if you ran like your mouth, you'd be in better shape. Suki, whoa, whoa, whoa. Dial it back, just a bit. Fast is fine. But accuracy is everything. You should try it sometime, Suki. You might like it. Come on, kid. Suki. Suki. Mammoth, Tayton, Yosemite, Zion, Sequoia, Bryce, and my personal favorite, Canyonland. All unique in their own little way. Now, a powerful entrance is just as important as a strong finish. So, I'm gonna let you take the whirlybird. That's dope! I know. Wait, he's never offered me that. Ugh. Don't sweat it. It's mine. Kind of. I won it in a card game! I don't have papers or anything, but it's mine! Whoa, whoa! Okie dokie. Now, fist pump me like a champion! Now? Just a little bump. Or a high-five. If you wanna just... Okay, fine. Whatever. Do yourself. We can try again later, if you want! Okay. 後 I COIO Rider Ridge, stay detenuta ed una. Vai al menu di gioco... ...not.. Tiene Alles do we know he'S syll convters. Mono di gioco. Ok, ma come si va? Ecco! Ben fatto, scopri in carta. Carriera, garrie di bicicletta, LIVIDO・DRAagnerVISCIA in un mix di esperienze downhill, su strada e bizzarria. Ok, gare di bicicletta. E' il momento di inaugurare la carriera di gare e biciclette. Ok, vento qui contro riders, la quintessenza del downhill, grandi saldi, curve, salti, non saldi, curve estreme e pendire ripidissime, bisogna stare saldi sulla bicicletta però, cosa significa? 3D, ok, sembra quasi fotografico. Ok, si. E quindi uso lo spazio. Bene, devo partire? Cioè, io sto andando contro mano? E ci sono anche i liceatori in mezzo? Scegli una modalità in solitaria o privata, gioco a questo evento come giocatore singolo contro il vantasimo di altri giocatori. Eh, non si può scegliere. Il tuo obiettivo principio è accumulare stelle per accumulare nuori carriere relativi dei sponsor. Completare gli eventi in modo migliore per ottenere stelle. Sezione attrezzatura, non è che abbia tanta scelta, quindi inizia, difficoltà, standard. Assistenza gioco, cambio di assistenza fotografico, sezione attrezzatura, opzione, inizia. Passi a vedere. io me ne vado a sinistra ops ho sbagliato il tasto non smette di girare come si fa a smettere di girare mentre in volo? è difficile congratulazioni una stella sarò arrivato ultimo mi immagino quarto addirittura vabbè assegna riconoscimento evento completato 2000 appunti esperienza nuova ricompensa livello di carriera ok continua ok usa utilizzato una nuova utilizzatura è stata con successo ok e tu che fai Glacier Point tanto parla spostamento rapido non ho capito c'è ah ok completando gli eventi otterrai più E ogni volta che raggiungi nuova trattatura o B perché non che nuovi eventi continua questa è la nuova giusto? o Mari quella in carbonio è nuova proviamola ops vediamo se riesco a disdiscastrarla vediamo se riesco a disdiscastrarla il telecamera non sembra aiutare troppo eh mmm c'ero quasi ho saltato in anticipo perfetto ci sono riuscito sì ok sì ok sì io calcolare i tempi qua non è facile poi sono in sesta posizione adesso ci ha fatto tanti punti ma anche tanti errori 2000 punti esperienza nuova ricompensa ok questa è una nuova bicicletta da provare da strada dice ok ok parli a me non sembra adatta questa bicicletta perché sei da strada deve essere stata asfaltata ok per raggiungere la tua velocità massima lb ah io usavo invece rt poi suggerimento la tua capacità di scatto dipende dalla tua attrezzatura maggiore la capacità di scatto più rapidamente la velocità massima la velocità massima suggerimento rilascia rt e ricaricare più velocemente l'indicatore dello scatto per forza questa bicicletta devo usare io ho capito che non era adatta qua è l'unica che si può usare non ho capito perché hanno messo il tasto della velocità a sinistra quindi in gara i ciclisti si toccano ok salve non ho capito ma non ho capito perfetto si è incidentato gli ho tagliato la strada poveretto ero primo e sono arrivato terzo perchè ho perso il controllo e non mi ha neanche aiutato la bicicletta comunque dai terzo posto buono spezzamento nuova ricompensa una nuova bicicletta adesso sto ricevendo biciclette a go go usala ok serie ottenuta è una l'ho completato cos'è l'invito orario ah il momento della giornata ok e andiamo in questa Red Bull quindi qua si volerà con la bicicletta se c'è Red Bull e vado in mezzo vediamo cosa succede sulla neve ah non ha più fiato che sta parlando? ok ok bene o male sono sempre gli stessi consigli e andiamo con la nuova estremo ispietato che rende da Mammoth agli Hoodoo su questo tracciato superficie variabile intanto non pedalo su una bicicletta vera eh dal 2004 quando pedalando ebbe un brutto incidente su un incrocio molto trafficato non finì sotto nessuna macchina né che sopra ma distorsì in pratica la bicicletta io pedalavo e la bicicletta non faceva girare le ruote perché avevano asfaltato da poco tempo e a conto pare ancora non si era asciugato l'asfalto non ho più toccato la bicicletta perché ho capito che dove abito è pericoloso e finisco a muovermi a piedi vai ci sono riuscito slitta e le salve a tutti c'ero quasi mi raggiungono questi ci sono ci sono ho finito ho vinto bravo sono stato bravo allora oh sfidante della gravità bolide velocista kabukun Niklasman 1983 new rider ok Ok. faccio un tempo ancora un'altra dai vediamo ah sono tornato di qui raggiungi l'allenamento trick allora sapete una cosa interrompiamo qui l'episodio è stato un piacere stare con voi provare questo titolo bellino prendendoci mano e piedi si riesce anche se non sto pedalando da vedere poi oltre la bicicletta le altre 5 o 6 discipline non è chiaro se sono 5 o 6 c'è stata quella discussione all'inizio però anche bella dal punto di vista grafico alcune cose sono realistiche altre di meno vabbè e dato che non è un videogioco non è vita reale allora ci vediamo al prossimo gameplay ciao a tutti